Mertens tira fuori questo video col bambino, un video stappalacrime diciamo, dove lui dice io amo la città, io amo quei napoletani. E' un tipo di giocatore che a Mourinho è mancato tantissimo l'anno scorso. Perché? Perché cercano l'attaccante, questa è la nuova, c'è questo nuovo sapore nel calciomercato. Perché dico questo? Va in aldo ma la Roma, lo sapevamo, lo sapevamo tutti, però vederlo lì apparecchiato così pronto, signori, questa Roma è eccezionale. Quello che sta succedendo nella capitale è eccezionale, adesso ne parliamo, adesso ne parliamo di questa Roma scoppiettante, ma non avete idea anche di cosa c'è dopo. Adesso ne parliamo, Mertens, Mertens è il video, Ciro, il bambino, non vorrei lasciare Napoli. A me, io sono un po' stanco di certi presidenti di calcio che fanno passare l'idea che sono lì così, che stanno facendo quasi per te, guardate, se non fossi io per la squadra. No, io sono per un calcio romantico, a me piace il calcio di Mertens, mi si dirà sì, ma lui prende i milioni. Ma adesso ne parliamo di questo, adesso ne parliamo anche di questo. E intanto, Inter e Milan, zitti, zitti, quatti, quatti, belli in silenzio, secondo me stanno cercando una cosa, tutte e due. Ma, allora, mettetevi comodi, innanzitutto sapete c'è questa nuova rubrica La Risposta, io faccio il video la mattina, questo video, voi mettete le domande, fate una bella domanda corte, mi raccomando corte le domande, e io rispondo durante il pomeriggio, quindi, dal pomeriggio vi vedete la vostra domanda, bella messa lì nel video, è un'interazione fra me e la mia community, mi piace farla e vi sta piacendo anche a voi. Quindi, bene così, andiamo avanti così, mettete le domande se volete, like, quello no se volete, mettete un mi piace, mettete un mi piace, aiutate il canale, quindi mettete un mi piace, non vi costa niente, mettete lì col ditino, col pollicino, like, un like, un fiore, un fiore, un desiderio, vi ricordo che se mettete un like e esprimete un desiderio, quel desiderio si avvera, questa è una cosa che dicevo tempo fa. E seguitemi su Instagram e Diego ci tiene 08, è lì che metto tutti gli aggiornamenti, ovviamente se non siete iscritti iscrivetevi, io ho il 60-70% di persone che viene qua a vedere ogni giorno i miei video e non sono iscritti, iscrivetevi perché ormai sono tante le rubriche e ne stanno venendo di più, sta arrivando anche un piccino, vedrete grafiche spettacolari, cose spettacolari, ragazzi, iscrivetevi se non siete iscritti, se siete iscritti campanella, se non siete iscritti iscritti campanella, basta, basta, basta. Allora, iniziamo. E iniziamo con Mertens. Mertens tira fuori questo video col bambino, un video stappalacrime, diciamo, dove lui dice io amo la città, io amo voi napoletani, purtroppo volevo far finire questa situazione in un'altra maniera, non è stato possibile, mi sentirò sempre napoletano. È ovvio, è ovvio che lo pensa, è ovvio che lui davvero si sente napoletano e ha avuto questo belga, questo ragazzo belga si è innamorato di questa città, sono stato a Napoli due settimane fa e vi posso dire che sì, puoi cadere in amore con Napoli tranquillamente, stai al Bomer, a Posillipo, ti affacci, vedi Capri, vedi Procida, Napoli è quello che è. Ma a parte questo, io penso, quando ci sono questi personalità, questi personaggi o personalità così legati alla squadra, perché non tenerseli? Perché non tenerseli? E qua viene la figura di De Laurentiis, che a me sinceramente, come persona non lo conosco, ma come presidente del Napoli a me non piace questo, mi sa di, c'è molta autorità, va bene, avere autorità va bene, però secondo me una squadra di calcio potrebbe essere anche gestita in maniera, con più sorrisi, con più tranquillità. Allora, mi sa che questo Napoli, quando molti dicono, ma tu non ci credi al Napoli? No, non ci credo al Napoli, a questo Napoli di quest'anno io non ci credo per niente, lo vedo nervoso, vedo una situazione non fluida, non neanche sportiva, sono tante cose messe insieme, ma non mi piace, non mi piace completamente, invece Mertens se ne va, se ne va e lascia un pezzo, un pezzo di Napoli se ne va insieme a Insigne, volendo anche Insigne era un figlio di Napoli, e se ne vanno, volendo anche Koulibaly era molto legato al Napoli, l'ha sempre dimostrato, e se ne va, io se vado di nuovo a Napoli, voglio fare un mini video con i napoletani per capire cosa ne pensano davvero loro di questa situazione della loro squadra, perché non è bello, non è bello che tu hai qualche, quei giocatori che tengono a quella maglia, tengono a questa, il calcio è calcio, cioè i presidenti devono capire che questo è calcio, il calcio è spettacolo, è sport, e devono lasciare lo sport, lo spettacolo, queste cose le devono lasciare dentro lo spediatoio, non può essere solo bilancio, soldi, mi avete capito, Wijnaldum, Wijnaldum, ragazzi Wijnaldum è praticamente il capitano dell'Olanda, io me lo ricordo ai mondiali, io me lo ricordo benissimo, un giocatore, allora il gioco di Wijnaldum sta veramente, il 60% del suo gioco è sempre lì accanto alla linea centrale del centrocampo, dove si batte il centrocampo, se lo vedete, quando lo vedrete è sempre là vicino lui, sempre là vicino e è sempre disposto per ogni passaggio, cioè lui dà a tutti i giocatori la possibilità di dargli un passaggio, come fa Brozovic, è simile a Brozovic, va meno verso le ali, verso le fasce, ed è molto più presente nella linea mediana, e questo è molto importante, Mourinho lo sa, Mourinho lo sa, Mourinho sa benissimo come deve utilizzare Wijnaldum, lo sa benissimo, lo sa benissimo, ed è un giocatore che gli è mancato, questo tipo di giocatore, Wijnaldum, è un tipo di giocatore che a Mourinho è mancato tantissimo l'anno scorso, perché è quel giocatore che riesce a farti salire la squadra, perché volontariamente ha quella perdita di tempo, tu gli passi la palla, uno o due secondi la tiene questa palla e la squadra sale, l'anno scorso non l'aveva, non l'aveva questa possibilità, non potevi passare la palla a Cristante, non c'era quella possibilità, doveva farlo vedere tutto ma non l'ha fatto, quest'anno lo fa Wijnaldum, e vi dico una cosa, tu hai Wijnaldum, Di Bala, Pellegrini, Abram, Sicuri, Zaniolo, non si sa, ma mettiamoci pure Zaniolo, Spinazzola, Smalling, Luis Patricio è un buon portiere, Mourinho in panchina, la smettete amici di Roma, la smettete di dire, ah lottiamo per il quarto posto con questa falsa scanamanzia, i Fredriken vi stanno costruendo una squadra da scudetto, anche voi dovete essere da scudetto e pensare che potete vincerlo quello scudetto, io sono stato il primo, non uno dei primi, il primo a dire questa Roma è da scudetto, sento l'odore di scudetto, sto parlando di giugno e mi prendevano in giro, adesso nessuno più mi prende in giro, perché hanno visto che c'è Di Bala, hanno visto che c'è Wijnaldum, ma queste cose le vedevo muovere, i Fredriken hanno fatto una vagonata di soldi nel loro business, core business, che è quello delle macchine eccetera eccetera, hanno fatto una vagonata di soldi, questi sono giovani, non è che è un'imprenditoria vecchia, stanca, no, questi sono nel pieno del loro, ma tutte due, padre e figlio, nel pieno, è il loro core business, che è il loro core business delle macchine, adesso è in parallelo con la Roma, cioè la Roma per loro è importantissima, io non dico che la Roma finisce con il Paris Saint Germain, ma di qua pensare che la Roma sia solo buona e fatta per il quarto posto o no, è inaccettabile che lo si pensi, la Roma, questa Roma è costruita per vincere lo scudetto, quantomeno lottare, altro che quarto posto, vedrete la classifica che farò questo a fine settimana, allora io ho fatto la classifica da barre così, messo l'agio, chicchiando, ma adesso mi sono andato a vedere un sacco di cose, un sacco di elementi e vedrete la classifica che farò questo a fine settimana, vedrete, anzi iscrivetevi se non siete iscritti così vi arriva questo bel segnale, ecco la classifica dell'anno prossimo e non la sbaglio, a proposito sto preparando anche il pronosticone, vedrete anche il pronosticone che cosa sarà, comunque detto questo per la Roma, finitela di dire la Roma da quarto posto, sì ma se ci arriviamo il quarto posto, basta, basta, cioè tu non compri Vinaldo, Belotti, Matici, forse Belotti, però sicuramente Dybal, insomma non compri tutto questo popò di roba e arriverà qualcun altro, e arriverà qualcun altro per arrivare al quarto posto, e no, e no, e no, non è cosa per Mourinho, è giusto che sia così, attenzione Mourinho fa bene il secondo anno, detto questo, Inter e Milan che cercano l'attaccante, Inter e Milan che cercano l'attaccante, questa è la nuova, c'è questo nuovo sapore nel calciomercato, perché dico questo? All'Inter è rimasto Lukaku, va bene Lautaro, va bene, Zeko, va bene, Correa, va bene, lo sanno, Inzaghi lo sa, Inzaghi sa benissimo che solo con Lukaku e Lautaro non può fare, ci vuole qualcos'altro, secondo me l'Inter punterà su qualche giocatore inespresso sui 25 anni o giovane sui 20 anni, che può fare davvero la differenza, perché su Correa io personalmente Correa non ci credo che possa fare 20 gol, Zeko ormai il suo lo ha dato e ci vuole un quinto giocatore, la stessa cosa, Superciu è per il Milan, e il Milan zitti zitti a me ieri mi è stato chiesto nella risposta, questa domanda e risposta che faccio, di Orighi non si parla, ma io Orighi non l'ho visto, Giroud vuoi puntare su Giroud, vuoi puntare su Rebic, Ibrahimovic, vedete tutte e quattro sono punti interrogativi, sono punti interrogativi, dice Leao chiaramente, però secondo me una punta, proprio un numero 9, il Milan lo può ancora andare a prendere, anche qui, ma fatelo, sia Inter che Milan, prendete un numero 9 di 20 anni, 21 anni, bello, alto, che si può formare, tanto sarà il quinto attaccante, ma prendetelo, prendetelo, è questo che deve fare il calcio italiano, non andare a cercare queste cose da 7 milioni, che dopo gli devi dare la buona uscita, non ne voglio più sentire parlare di quelle cose là, non ne voglio più sentire parlare di questi parlamenti di 0 a 34 anni, 35 anni, fatelo fare alla Juventus, ma Inter, Milan, non devono farlo più, non devono farlo più, a proposito, vai in Aldo ma a 30 anni, non è che erano a 34, cioè prendi almeno giocatori su quella fascia di età, detto questo, come sempre, questa è la nostra conversazione mattutina, mettete like, non dimenticate, fate la domanda stretta, non mi fate leggere tante cose che dopo è stancato in una domanda concisa e vi rispondo nel pomeriggio, dopodiché questo fine settimana ci sarà la classifica bellissima e il pronosticone sta arrivando, ma no, non avete idea di cos'è questo pronosticone, dopo ci sarà appunto sul campionato, le live, le post partita, le reaction, di tutto e di più, iscrizione, 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 alla prossima, ciao ragazzi!